Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? Dio, porca madonna di Dio! Io trovo quello che mi ha fatto innervosire di Okange da un pugno che spacco la testa. Lo troverò quel deficiente prima o dopo, eh? Dio, porca! Se venite avanti! Ancora mi da un pugno! Ostia, non venite dentro! No, no! No, no! 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 Grazie a tutti.